Quest'anno portiamo avanti l'iniziativa piuttosto che il volo dei genitori, come gli anni passati abbiamo cercato di allargare la familiarità, effettivamente, proprio per cercare di fare sempre più aggregazione e far piacere poi ai figli, dei genitori, ai fratelli e via dicendo. Infatti la caratteristica di questo torneo è proprio quella di portare in campo le famiglie di una classe in rappresentanza del proprio figlio, appunto del proprio parente. Quest'anno due classi si potranno unire, cerchiamo proprio di fare le più possibili aggregazioni, divertimento, solidarietà, perché poi tutto quello che entrerà con le iscrizioni, oltre alle assicurazioni che grazie al CSI garantiremo a tutti i partecipanti, andrà in beneficenza ad una onlus della città, oltre anche alla scuola Filippo Montesi che ci aiuta in questa organizzazione per scopi didattici naturalmente. Chiedo naturalmente anche qui di iscriversi entro il 4 novembre, che poi da metà novembre il torneo comincerà. È un bel torneo, serve proprio per fare aggregazione, conoscerci nel tempo. Tante famiglie, tanti genitori, tanti bambini si sono conosciuti grazie a questo torneo. Bambini, il primo pensiero che devono essere i primi tifosi della loro squadra, della loro classe. Per iscriversi i cantati sono i miei 328-88-68685 o piero.valori.chiocciolalibro.it